Gentili telespettatori, buona giornata. Facendo una ricerca su Google Trends, queste sono le regioni da dove arrivano più visualizzazioni per il canale Teleitalia. La regione dove c'è più interesse per Teleitalia, vedete che è il Piemonte. 100 significa che è da dove arrivano più visualizzazioni. L'interesse va da 0 a 100. Poi segue il Veneto con 81, poi segue la Lombardia con 76, poi segue l'Emilia Romagna con interesse 74, poi segue la Toscana con 65, il Lazio con 59 e la Sicilia con 35. Nelle altre regioni non ci sono dati sufficienti da mostrare. Una curiosità che ho voluto condividervi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.